Oggi siamo qui con Leonardo Tinimini, responsabile dell'infrastruttura IT di Istat. Ciao Leonardo, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Si sente sempre più spesso parlare di open source e quindi tutto il tema dell'integrazione dei vari software e del controllo e il governo dei dati. Voi come state affrontando in Istat questa tematica? Diciamo che la problematica dell'integrazione dei dati e anche dei software è una tematica che ci impegna da anni ed è oggettivamente una problematica molto sfidante. L'approccio che noi stiamo seguendo per risolvere questa problematica si basa su una trasformazione dell'infrastruttura in un'ottica di cloud ibrido e di containerizzazione delle applicazioni. In questa strategia stiamo privilegiando tutte quelle soluzioni basate sull'open source e su standard ampiamente consolidati per metterci a riparo da problemi di lock-in nei confronti di vendor specifici. Inoltre stiamo diversificando le nostre soluzioni in modo da salvaguardare i nostri investimenti. So che avete attivato un laboratorio e un comitato di innovazione e di ricerca, ma voi come convertite questa logica di laboratorio poi in progetti concreti? Questa è stata una grossa sfida e la chiave vincente dal mio punto di vista è stata quella di avere un comitato ricerca e innovazione che comprendesse sia la parte di produzione che quella metodologica che la parte IT. Quindi l'IT entra fin da subito nella valutazione delle proposte progettuali e ne effettua una valutazione per far sì che i progetti che approdano poi nell'innovation lab siano sostenibili dal punto di vista informatico e quindi non abbiano per esempio problemi di performance o di sicurezza o di scalabilità. Dopodiché questo processo di validazione continua durante l'effettivo transito del progetto nell'innovation lab e per così dire anche quando il progetto poi risulta essere di successo lo accompagniamo per mano passando dalla sua fase prototipale, progettuale a quella di esercizio e quindi in produzione. Ecco, voi come vi state attrezzando invece per quanto riguarda le competenze che sono necessarie per affrontare appunto tutto quello che è la trasformazione digitale? È una tematica ovviamente complessa. Diciamo che al di là delle soluzioni diciamo abbastanza consolidate, basate su formazione tradizionale noi ci stiamo anche muovendo su soluzioni innovative e diverse. In particolare noi diamo particolare importanza alle collaborazioni. Quindi l'innovation lab in un certo senso è anch'esso un esempio di queste collaborazioni perché integrando competenze di livello produttivo, metodologico e IT favorisce quella che gli inglesi chiamano la cross fertilization. Ma in più abbiamo anche collaborazioni in atto con il privato, con team digitale, con le università, con le pubbliche amministrazioni. L'idea è di stabilire delle reti di collaborazioni nelle quali noi interagiamo mettendo quelle che sono le nostre competenze che noi abbiamo nel DNA per intenderci che sono soprattutto quelle sull'analisi dei dati e stabilire quindi delle collaborazioni paritarie nei confronti dei nostri partner in cui noi ovviamente riceviamo ma diamo anche valore aggiunto in termini di conoscenza ai nostri partner. Ecco Leonardo, ti faccio l'ultimissima domanda. Mi dai una tua definizione di analytics? Allora, noi diciamo in Istat i dati e le informazioni sono assolutamente centrali quindi sono le nostre materie prime, i nostri semilaurati e i nostri prodotti finali quindi l'attenzione che noi abbiamo sui dati è enorme e di lunga data. Quindi siamo particolarmente interessati a tutti quegli strumenti di analisi e in particolare ovviamente gli strumenti di analytics che ci permettono di vedere questi dati in maniera molto dettagliata estraendo conoscenze che non sono evidenti in modo tale da produrre delle statistiche di elevata qualità. Quindi per riassumere, gli analytics per noi sono parte di quel toolkit di quel insieme di strumenti che noi utilizziamo quotidianamente per produrre delle statistiche di qualità. Grazie. Grazie a voi.